Il Consiglio regionale del Piemonte ha partecipato e sostenuto diverse iniziative per celebrare il 25 aprile, data simbolo della rinascita del paese nel suo settantottesimo anniversario. Ricco il calendario di appuntamenti culminati con un evento speciale, il concerto Voi che passate il testimone di Vinicio Capossela all'auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto. Il concerto dedicato alle staffette partigiane e alle donne resistenti è stato promosso dalla città di Turino, medaglia d'oro della Resistenza, città di Gramsci e Primo Levi in collaborazione con il Polo del Novecento, con il sostegno del Comitato per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana del Consiglio regionale del Piemonte. Servono nuovi linguaggi per avvicinare i giovani, per fare comprendere i valori della Resistenza e della Costituzione, lottare perché questi valori che sono stati conquistati una volta col sangue dei nostri partigiani siano difesi sempre e comunque nella vita di ogni giorno da tutti noi. Tra gli altri momenti di commemorazione, la tradizionale fiaccolata del 24 aprile che ha preso il via da Piazza Arbarello e ha attraversato il centro cittadino per concludersi in Piazza Castello con le orazioni ufficiali. I partigiani e le partigiane hanno combattuto per riaffermare principi semplici, uguaglianza, fratellanza, libertà, pace, rispetto per gli altri. Stiamo parlando di due fronti contrapposti. Una è l'idea di una società chiusa, comunque gerarchicamente organizzata, di una società fascista. L'altra è quella di una società democratica. Questa è la posta in gioco. Presidio della memoria anche il Polo del Novecento con proiezioni in omaggio alle donne partigiane e con il concerto Ezio Bosso, The Four Letters. Una produzione originale ispirata alle lettere di quattro partigiani condannati a morte tra il 1943 e il 1944 a cura dell'Istituto Piemontese Gramsci, eseguito dagli allievi del Conservatorio Statale Giuseppe Verdi, ad aprire lo spettacolo i ragazzi e le ragazze dell'Accademia Teatrale Mario Brusa. The Four Letters è stato composto nel 2007 dal maestro Ezio Bosso e ispirato proprio a quattro lettere dei condannati a morte della Resistenza, due della Resistenza Europea e due della Resistenza Italiana. Un concerto importante per noi perché prende spunto dalla donazione che la famiglia Bosso ha voluto fare all'Istituto Piemontese Gramsci e quindi al Polo del Novecento dell'archivio del maestro scomparso ormai pochi anni fa. Le iniziative sostenute dal Consiglio regionale del Piemonte in occasione del settantottesimo anniversario della liberazione proseguono fino al 15 maggio.